Buonasera e benvenuti a Sette Sere. Iniziamo questa nuova settimana con una puntata tutta dedicata alla medicina e quindi alla nostra salute. Sono veramente tantissimi gli argomenti di cui tratteremo questa sera. Parleremo di terapia anticoagulante orale, parleremo di chirurgia mini-invasiva dedicandoci soprattutto alle applicazioni sul nostro apparato digerente e poi andremo a capire se quando si parla di problematiche di deambulazione i piccoli strumenti che sono oggi in commercio possono effettivamente cambiare la qualità di vita. Iniziamo subito parlando di una medicina di cui si sente spesso parlare. Parliamo di acupuntura ma questa sera oltre a capire che cos'è veramente cercheremo di capire quali sono i benefici effettivi, se ci sono anche dei limiti e soprattutto vedremo anche se ci sono delle curiosità da sapere o dei tabù da sfatare. Allora parleremo di tutto questo insieme alla dottoressa Maria Grazia Zannoni, medico esperto in acupuntura. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Allora che piacere poter parlare di questa disciplina medica, di quest'arte anche possiamo chiamarla perché è un qualche cosa che portiamo dall'inizio dei tempi, è nata in Cina. Io per raccontare bene che cos'è, di cosa si tratta quando si parla dell'agopuntura vorrei un po' raccontare le origini perché sono molto affascinanti. Le origini dunque l'agopuntura nasce nell'antica Cina 2000-3000 anni fa e la cosa più importante è che riprende il pensiero cinese, cioè cosa vuol dire? Che per l'antico pensiero cinese tutto è energia, per cui materia e energia, che viene definita C, praticamente sono la medesima cosa sotto due forme diverse. Il pensiero che ha portato allo sviluppo dell'agopuntura si basa innanzitutto sulla legge dei cinque movimenti, cioè sono delle categorie generali sotto cui esistono tutte le manifestazioni della realtà. Quindi troviamo, immaginiamo un cerchio con a capo il fuoco, poi la terra, il metallo, l'acqua e il legno. E a ogni elemento corrisponde quello che i cinesi chiamavano zang fu, cioè organi e visceri. E da qui poi nasce la teoria dei meridiani. Ecco, cosa sono? Non so che si sente parlare di energia che scorre di meridiani, ma poi di fatto non è chiarissimo. Se noi abbiamo parlato di energia, di questo C, e anzi vorrei aprire un attimo una parentesi, i termini cinesi tradotti sia in inglese che in italiano, purtroppo perdono in parte lo spirito, il loro spirito, la loro parte intrinseca. Comunque, se noi siamo energia, devono esistere dei canali preferenziali, quindi chiamiamole via di scorrimento, dove questa energia viene veicolata. Certo, quindi questi sono i meridiani di cui sentiamo parlare. No, abbiamo meridiani principali, e sono dodici, sono bilaterali, sono simmetrici, abbiamo i meridiani secondari, i meridiani curiosi, definiti così perché in loro praticamente scorre quella che è l'energia ancestrale, cioè un'energia che noi portiamo dal momento del concepimento, quindi del cielo anteriore, cielo posteriore, tutta l'energia che noi acquisiamo con la nascita. Ecco, allora questi sono concetti molto interessanti, abbiamo detto che nascono in Cina circa 2000-3000 anni fa e addirittura tradurre la terminologia giusta dell'agopuntura in italiano, in inglese, in qualsiasi altra lingua, toglie molto di questa filosofia. Toglie, toglie lo spirito. Cerchiamo però di capire a questo punto se una medicina di questo tipo si può unire ad una medicina tradizionale, la nostra medicina occidentale, può essere valida o per esempio ci possono essere dei risultati così eclatanti, così dimostrabili da far sì che noi dobbiamo riconoscerla? Allora, innanzitutto è una medicina che potrebbe benissimo coesistere con la medicina occidentale. Sono due medicine senz'altro diverse. La nostra impronta dualistica, nel senso da una parte c'è la psiche e da una parte il il Soma. Però sono anni anche che la medicina occidentale si interroga su questo rapporto profondo che lega la psiche e il Soma. È nata infatti la medicina psicosomatica, è nata la psico-neuro-endocrino-immunologia, mentre nella medicina cinese noi non abbiamo questa dualità. nella medicina cinese noi abbiamo lo yin e lo yang e che si compenetrano, tutto è in divenire, ma in questo tutto, psiche e Soma sono uniti. Per cui se tu curi con una medicina, con la medicina cinese, tu curi direi il paziente nella globalità, cioè a 360 gradi, pur nella sua unicità. E quindi questo è il pregio dell'agopuntura. Assolutamente. Però, tornando a quello che dicevamo prima, ci sono dei risultati che noi possiamo riconoscere, quindi dimostrare l'efficacia anche per quanto riguarda il nostro tipo di medicina? Sì, certo. Ascolta, innanzitutto dal CNR sono stati fatti ovviamente degli studi e si è visto che andando a stimolare i punti che noi usiamo per la terapia del dolore, per l'analgesia, questi punti vanno praticamente ad attivare il cingolo anteriore, le insule bilaterali, una parte del frontale sia sinistro che destro, dove praticamente noi abbiamo quelle aree deputate a ricevere gli stimoli nocicettivi. E si è visto che con l'agopuntura abbiamo una stimolazione, ma non la risposta del dolore, cioè non si sente dolore. Quindi si pensa che potrebbe essere che i punti di agopuntura e questa attivazione a livello cerebrale inganni, passatemi il termine, il dolore, questi recettori deputati alla sede del dolore. È molto interessante, tra pochissimo lo approfondiremo. Giusto, perché aprire questo discorso prima di entrare magari nello specifico di alcune problematiche trattabili o meno con l'agopuntura, vorrei capire con lei la malattia, a questo punto com'è identificata dall'agopuntura, che cos'è esattamente? Riprendiamo il discorso, abbiamo parlato di energia, quindi che scorre, per cui può succedere, la malattia è un disequilibrio di queste energie, è un blocco energetico, è un'energia in eccesso, è un'energia in difetto, per cui tu vai a curare, aggiungendo, sottraendo, riequilibrando. Certo, benissimo, per cui si riequilibra qualcosa che si era bloccato. E allora andiamo veramente a vedere quello che può fare, scopriamo i limiti ma anche i benefici. Allora, può essere un po' una panacea di tutti i mali, sì o no? Ecco, anche qui ci sono dei limiti. Sì, certo. Soprattutto, cioè, iniziamo a pensare che è molto utile per le malattie funzionali e anche per quelle organiche, quelle funzionali e che esiste, e questo ci tengo a ribadire che si sappia, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto un elenco di malattie, per cui è stata provata che l'agopuntura ha un'efficacia superiore al placebo, per cui ha riconosciuto l'emicrania e cefalee, terapie del dolore, del dolore osso articolare, l'iperiembesi gravidica, nausea e vomito in chemioterapia, per cui è... Ha invece effetti collaterali? Effetti collaterali direi di no. L'effetto collaterale, dunque, può essere un'allergia al metallo. Sì, ovviamente, certo. Ovviamente, una crisi vagale se il paziente ha una soglia del dolore bassissimo o ha paura degli aghi e basta. È quello, benissimo, per cui allora noi vi consigliamo ovviamente sempre di riferirvi a specialisti, di adottare anche questo metodo in sintonia, però in sinergia con la nostra medicina tradizionale. Quello senz'altro, certo. Non vi proponiamo qualcosa che invece... Non deve sostituirla, ma quello che dico sempre deve essere complementare, è un qualcosa di più che si può aggiungere. Benissimo, allora senta, andiamo a spiegare bene come si fa l'agopuntura e intanto chiederei ad un nostro aiutante di venire, si presta a fare, perché ci fa vedere come si fa ad inserire un ago, perché quello che più spaventa dell'agopuntura è il dolore. Un approccio all'ago e al dolore. Esatto, allora prego vieni, vediamo subito come si mette un ago dell'agopuntura. Intanto cosa andiamo a trattare? Andiamo a trattare, anche per questioni di comodità, questo punto qua, che è il 4 grosso intestino ed ha un'azione antispastica, antidolorifica, serve per sbloccare l'energia nel meridiano e quindi serve anche in tutte le cervico-brachialgie per ammorizzare l'energia. Benissimo, e così almeno vediamo come si agisce, come si opera con l'agopuntura. Gli aghi, abbiamo questo, che è quello sottile, sono monouso, ci tengo a precisare che non è questa, che è un'altra lunghezza. Benissimo, quindi a seconda del punto che si va a stimolare è una lunghezza differente. Eccetera, prendiamo, qui si sente come un avvallamento, si inserisce, si manipola e si lascia in seto. Benissimo, vediamo subito come è andata. Sentito dolore? No. No, ok, allora già hai tranquillizzato, allora male non fa, a meno che appunto non si abbia la fobia, non si sia allergici al metallo. Al metallo. Si lascia poi agire quanto? Quanto deve essere questa stimolazione? 10 ai 20 minuti, ovviamente poi con altri punti, eccetera, questo era solo puramente a scopo dimostrativo. Benissimo, allora facciamo così, liberiamo. Lo liberiamo. Lo soglia tante e dedichiamo. Grazie, grazie infinite. Allora tu starai meglio ma non hai sentito dolore. No. Grazie, grazie mille. E allora l'ultimo minuto io lo vorrei dedicare con lei allo studio di questa disciplina. Allora è una medicina, una medicina orientale, però è riconosciuta. Allora è fondamentale dire che tante sono le persone, i pazienti che vogliono sperimentarla. Benissimo, mi hanno detto che si può, non è un invece, la medicina tradizionale è un in più, ma rivolgiamoci a chi invece vorrebbe praticarla, perché è fondamentale dire che bisogna sempre rivolgersi non solo a degli specialisti quando si vuole essere pazienti, ma anche a degli specialisti quando si tratta di imparare. Ecco, perché ci sono delle scuole riconosciute. Come funziona in Italia? Come si diventa degli occupuntori? In Italia esistono delle scuole, a macchia di leopardo, quasi su tutto il territorio nazionale, scuole in molti casi riconosciute dall'Ordine dei Medici. Ecco. E sono praticamente quattro anni di corso, a ogni fine anno si sostiene un esame, al quarto anno la tesi, e ci tengo anche a precisare che l'Ordine dei Medici di Milano a cui appartengo è da un paio d'anni che ha aperto un albo degli agopuntori proprio per regolamentare sia la flusso e garantire soprattutto le persone che vengono nei nostri studi. Esatto, benissimo, grazie perché si parla sempre di salute, poi tra l'altro parliamo di aghi, per cui abbiamo detto degli aghi che devono essere monouso, insomma ci devono essere anche delle regole igieniche da rispettare. Ecco, non affidatevi a persone che magari hanno appena iniziato questa pratica o a persone magari straniere che vi danno più sicurezza perché dicono che è nella loro tradizione. No, richiedete sempre di vedere che siano specialisti, mi raccomando. Io la ringrazio dottoressa per averci fatto scoprire questa disciplina, però io la rinvito l'anno prossimo appena riprenderemo dopo la pausa per fare qualche dimostrazione pratica, così vediamo come si può stare meglio aiutati. Così le persone possono capire e avere meno paura. Esatto, grazie, grazie infinite. Grazie anche a voi, adesso c'è un pochino di pubblicità, però restate con noi perché continuiamo a parlare della nostra salute, a tra pochissimo. Grazie a tutti.